Mi hanno appena licenziato e mio marito mi ha lasciato. Ah, cazzo. Parti forte? Sì. Io scrivo questa rubrica. Sì, sì, lo so. La conosce? Ma non leggo certe stranzate. Tenga, li compro a stocca da cento. Non sapevo se avessi una sorella. Stavi dicendo una roba da psicopatica, mi interessa. Quando devo passare per quartiere mi vanno zoom. Io le propongo un patto. Dieci minuti di un'esperienza nuova. Che cos'è che non riesce a fare? Ogni settimana, prima della nostra seduta, dovrà cimentarsi in qualcosa che non è mai fatto nella vita. Qualsiasi cosa. Che la entusiasmi, che la disgusti. Accusano di furto. Ma deve entrare in territori sconosciuti. Sono andata a un funerale. Ma di chi? Non lo so. Siamo diventati grandi insieme. E poi qualcosa si è rotto. È possibile che non ti accorgi di niente? Che mi sono a sogno. Ti ho già lasciato. Lo sai che cos'è forse più grande dell'essere umano? No. La debulizza. Che io pensavo che spezzare il cuore fosse un modo di dire ritorico. Non sia proprio così che mi sento spezzata. Che io pensavo che mi sento spezzare il cuore fosse un modo di dire ritorico. Che io pensavo che mi sento spezzare il cuore fosse un modo di dire ritorico. Che io pensavo che mi sento spezzare il cuore fosse un modo di dire ritorico. Grazie a tutti.